Ciao a tutti, ben ritrovati e continuiamo a parlare di Alessandro Manzoni. Quindi attenzione perché il video precedente è Alessandro Manzoni 1, questo è Alessandro Manzoni 2. E con questo concludiamo la vita. Allora, di cosa parliamo adesso? Parliamo di cosa accade appunto. Abbiamo lasciato Alessandro Manzoni a Parigi. Adesso cosa succede? Che nel 1808 Alessandro Manzoni si sposta a Milano e lì si sposa appunto a Milano con Enrichetta Blondel e si sposa con un rito calvinista. Allora, Enrichetta, la moglie appunto, ha un momento insomma di riflessione sulla vita e si avvicina al cattolicesimo. Quindi cosa accade? Che nel 1810 si rifà appunto questo matrimonio però col rito cattolico. C'è un evento però nella vita di Alessandro Manzoni che è molto importante. Allora, prima di tutto facciamo una premessa importante. Alessandro Manzoni è tendenzialmente da sempre un'emotività, ha un'emotività molto fragile, molto delicata. Diciamo, lui ha prevalentemente, diciamo, un carattere particolarmente sensibile e soffre di disturbi e di nevrosi. Quindi questo lo porta ad essere balbuziente, spesso a non saper tenere la calma. Insomma, viene descritto così ed è particolarmente legato alla moglie. Succede un evento che durante appunto un evento importante Alessandro Manzoni smarrisce la moglie e appunto viene, gli viene, si sente attanagliato da quest'attacco di panico. Quindi durante un evento in cui c'era particolarmente folla Manzoni smarrisce la moglie. Smarrisce la moglie e lì ha un attacco di panico. Si rifugia in una chiesa. In questa chiesa miracolosamente ritrova la moglie. In questa chiesa dove ritrova la moglie. Lui comincia anche a vivere un momento, diciamo, particolare perché ha una rivelazione. Questa rivelazione sarà poi la sua conversione. Quindi anche lui si avvicina alla fede cattolica. Questo evento accade il 2 aprile del 1810. Quindi durante appunto questo ritrovamento della moglie in chiesa Alessandro Manzoni si rende conto che quella fiamma della fede si era riaccesa. Quindi ha una conversione e si avvicina a Dio. Ora ovviamente è facile capire che con questa conversione la visione di Manzoni cambia radicalmente la sua visione del mondo, della vita, i suoi scritti. Quindi cambiano molte cose avvicinandosi al cattolicesimo. In questa fase dove appunto dalla conversione in poi anche i suoi scritti cambiano e in questo periodo ricordiamo gli Inni Sacri, ecco lui scrive gli Inni Sacri e il conte di Carmagnola. Inoltre possiamo dire che dopo questo evento, diciamo questa conversione, ci sono altri eventi che sono importanti nella sua vita perché nel 1827 si trasferisce a Firenze e qui incontra Giacomo Leopardi che è facile immaginare che questi incontri di queste due menti eccelse insomma non può che essere stimolante, non può che essere ancora di più un elemento per migliorare e per crescere ancora di più. Inoltre tra il 1830 e il 1833 vive una serie di dolori fortissimi che ancora una volta appunto vanno ad intaccare questa sua grande fragilità. Cosa accade? Che durante questo periodo, quindi 1830-1833, perde sei dei suoi nove figli e anche la moglie, quindi nell'arco di questi anni perde sei figli e la moglie. Questo lo devasta completamente, tanto da far accrescere, far crescere ancora di più diciamo questi suoi forti dolori e questa sua fragilità, queste sue nevrosi, questa sua fragilità, tanto da portarlo all'isolamento. Inoltre nel 1860 viene eletto senatore ed è presidente di commissione per l'unificazione della lingua perché Manzoni si batte molto per trovare una lingua unificatrice cioè che sia comune, vicina a tutti, che sia comprensibile a tutti che il suo obiettivo appunto che nei suoi scritti voleva arrivare a tutti. Inoltre Manzoni poi nel 1820, facciamo un piccolo passo indietro, ho confuso le cose, però nel 1820 scrive i Promessi Sposi che però inizialmente si chiamavano Fermo e Lucia. Poi vedrete che di seguito troverete anche una breve mappa molto semplice, molto schematica sui Promessi Sposi dove appunto viene elencato tutto quello che c'è da dire di più importante. Però in questo caso tra le date importanti da ricordare di Alessandro Manzoni dobbiamo appunto ricordare anche che nel 1820 a Milano scrive i Promessi Sposi che però si chiamavano, la prima edizione si chiamava Fermo e Lucia. Poi muore a Milano nel 1873. Quindi con questa, diciamo, con quest'ultima mappa racchiudiamo un altro elemento importante della vita di Manzoni che è quello della conversione. Quindi c'è un prima e un dopo e adesso lo andremo ad affrontare nel prossimo video perché parleremo del pensiero di Alessandro Manzoni. Allora ragazzi io vi invito a scaricare la mappa che troverete al di sotto di questo video dove parliamo, appunto, concludiamo la vita di Manzoni. Io spero di essere stata chiara, a parte qualche incertezza, però spero di essere stata chiara. Questo è importante perché ascoltando il video, studiando dalla mappa, ascoltando l'audio che vi aiuta nella prima lettura della mappa, voi potete sicuramente avere gli strumenti giusti per ricordare meglio e per fare vostro l'argomento. Però vi ricordo sempre che la cosa più importante è la ripetizione ad alta voce, dovete abituarvi a parlare. Questa è l'epoca in cui, insomma, si parla così come si scrivono i messaggi. E' sempre complicato esprimersi. Però ricordate che seppure avete studiato tanto, ma non lo esprimete al meglio, è come se non avesse fatto nulla. Poi non c'è cosa più bella che è parlare ed esprimersi. Quindi fate tesoro di quello che avete studiato, dite, insomma, cercate di esporre al meglio. Alla fine di tutto, come dico spesso, esprimete anche le vostre opinioni, che è sempre molto bello sentire le vostre opinioni, che poi arricchite voi, noi. Quando poi vi avete studiato, noi alla fine fate le vostre riflessioni, è sempre bellissimo, è sempre un bel momento, perché le riflessioni di voi ragazzi giovani sono sempre riflessioni brillanti, perché è la verità. Quindi, vi raccomando, studiate dalla mappa, ascoltate l'audio e ripetete ad alta voce. E vi raccomando, guardate il video successivo, perché adesso parliamo del pensiero di Alessandro Manzoni. E con questo concludiamo in Alessandro Manzoni 10. Avete preso 10. Ciao, vi aspetto al prossimo video.